Il sentiero per scendere dalla prima spiaggia, quella prima di quella di Agio Giovannis. Siamo alla fine del sentiero, sarà a circa 100 metri. Eccoci qua sulla spiaggia, in questione di pochi metri. Eccoci all'altra spiaggia. Qui è arrivata la barca, ci sono una decina di persone alle mie spalle e un paio in acqua, mi sembrano tedeschi da come parlavano, sotto quella casetta lì all'ombra. Non so dove ci metteremo noi all'ombra. Questa spiaggia mi piace leggermente di più, non so perché. E lì forse un po' di ombra si farà. Grazie a tutti.